Sono quotidiane le truffe online nel settore energetico, telefonico e finanziario. Per contrastarle nasce, su iniziativa della Regione con fondi del Ministero dello Sviluppo Economico, una rete di 12 sportelli gestite dalle associazioni dei consumatori. Anna Madia. Mi conforma che posso procedere? Sessione telefonata con distribuire un nuovo contratto di finitura di energia elettrica anche al centrale con Facile Energy? Sì. Se non avete capito nulla della telefonata che avete appena sentito, è perché si tratta di una truffa telefonica. Chi ascoltava ha detto sì una volta o forse due, poi il suo sì è stato copiato e incollato, usato per la stipula di un contratto che non voleva. Come lui, tanti, tantissimi, ci spiegano nella sede dell'Adi Consum di Pesaro. Gentile cliente b***e, stiamo provando a sospendere le sue tenze bancarie per mancato aggiornamento. Per evitare accedi, qui è un po' oscuro, c'è un link. È questa una delle associazioni che insieme ad Adoc, Cittadinanza Attiva, Feder Consumatori, Movimento Difesa del Cittadino e Unicon, sta creando 12 sportelli voluti dalla Regione Marche e finanziati con fondi del Ministero dello Sviluppo Economico. In ogni sportello c'è un professionista che li può accogliere per ascoltarli, per capire insieme come risolvere le problematiche legate all'energia, al mondo della telefonia. La truffa non colpisce solo gli anziani, si punta sull'ansia delle persone, ma anche semplicemente sulla fretta, sulla scarsa digitalizzazione, sulla conoscenza modesta dei propri diritti. Stiamo rilevando nell'ambito dell'energia anche la casistica, il fenomeno molto diffuso dei contratti stipulati e attivati senza il consenso degli utenti. Dalla richiesta di inviare un QR code alle firme digitali false, nel campo dell'energia, ma anche della telefonia e dei servizi finanziari, al fiorire delle compagnie reali è seguito il proliferare di società nate per ingannare. Purtroppo vengono inseriti alle volte anche documenti di identità falsi, numeri di telefono che non esistono. Le associazioni rispondono con reclami, con segnalazioni all'autorità garante, con il tentativo di conciliazione che è previsto prima del giudizio, poi nei casi che rimangono, 5% circa, si va dal giudice. Ma, dicono, serve prima di tutto allargare la conoscenza media dei cittadini.